Musica Ascolteremo Raun Mirri di Walzer, arrangiato dal maestro Giuseppe Esposto, e questo apriremo con Libiamo negli Eticalici, che è un celebre brindisi in tempo di Walzer del primo atto della traviata di Giuseppe Verdi. Queste le parole di Alfredo, Libiamo negli Eticalici, che la bellezza infiora, è la fuggevole oro, segnale di volontà. Libiamo nei dolci frementi, che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amor fra i Eticalici, il più caldi baci avrà. Queste le parole di Alfredo a Violetta. Seguirà poi il Carneola di Venezia, di un autore anonimo, l'estudiantina, opera 191, di Emil Valterfer, ed infine, anzi no, ancora altri due Walzer, sopra le onde di Juventino Rosas, è Du Hong Du, un Walzer per orchestra, opera tratto dall'opera 367, di John Strauss Jr. Gli interpreti di questo mitri sono Zarillo Cristina, alla fisarmonica, Gian Matteo Rosi, alla fisarmonica, Griego Cosimo, alla fisarmonica, Asquino Pasquale, all'organetto, Varlotta Francesco, alla fisarmonica, Gruosso Martina, alla fisarmonica, Lobito Angelo, all'organetto, Sabato Davide, alla fisarmonica, Consiglio Fabio, alla fisarmonica, Consiglio Giuseppe, all'organetto, Gerardi Antonio, al basso, Colangelo Antonio, alla chitarra, Napoletano Nicola, alla batteria, e di piatti, Paternoster Antonio. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.